Dio fa, Dio fa, mio fratello che lo pide nel culo registrazione in corso, allora vedi quella che sto mandando io, subo cazzo che è crashato, coglione vi do io bravo, vi do io ah mamma me Simo, ma è un'altra volta DirectX, ma che è? una copra vocale, l'hai preso del copro